Fare il punto sulle attuali dinamiche regionali e sul loro impatto sulle attività dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. E' questo il tema al centro dell'incontro tra il Ministro degli Esteri Giulio Terzi e il Commissario Generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite, Filippo Grandi. L'incontro è un'opportunità per ribadire il sostegno politico italiano e valorizzare l'apporto della cooperazione italiana allo sviluppo alle attività dell'Agenzia. Grazie.